In primo piano parleremo del crack Cesena Calcio, sequestrati i beni per 11 milioni di euro. La cronaca Riccione e ladri si schiantano dopo un inseguimento con le forze dell'ordine, arrestati. Rimini addio a Don Andrea Baiocchi, l'economo della curia diocesana riminese. Ed infine parleremo anche di turismo ed alta cucina presentato a Milano, almeno il Circo Mercato dei Sapori. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque questi i principali titoli del nostro telegiornale. Come avete visto in primo piano parliamo del crack del Cesena Calcio, sono stati sequestrati i beni per 11 milioni di euro, i particolari nel servizio. Rischio fallimento e conti in bilico, nuova tegola sul Cesena Calcio e su suoi amministratori ex e attuali. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni e conti correnti per 11 milioni di euro alla società, all'ex presidente della squadra Igor Campedelli e ad altre 5 persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Forlì, che sta passando da mesi al setaccio la contabilità della squadra romagnola. E questa volta pare che i PM abbiano seguito il filo degli ammanchi di denaro e abbiano trovato le falle. Gli indagati, infatti questa è l'ipotesi dell'accusa, avrebbero svuotato le casse del Cesena attraverso una serie di raggiri contabili ed amministrativi, creando con quei soldi fondi neri che poi finivano sui propri conti correnti. Oltre all'ex numero 1 Campedelli, i sequestri riguardano 4 imprenditori e 2 commercialisti che forti degli incarichi all'interno del club avrebbero messo in atto la frode fiscale che ha consentito di fare uscire soldi dai conti della squadra. La decisione della Procura di richiedere il sequestro preventivo è stata presa per evitare il rischio che gli imputati, già conoscenza dell'inchiesta da novembre, occultassero i propri beni. Il GIP ha dunque disposto il sequestro per le tre società coinvolte, oltre al Cesena, la Villa Turi SRL, la Double T SRL e di 6 dei 7 imputati. Oltre a Campedelli ci sono Potito Trovato, Cocride, Mastrorazio, Luca Leoni, Luca Mancini e Maurizio Marin. Si tratta di 65 conti correnti, 34 depositi, titoli e 6 cassette di sicurezza detenuti in 44 banche italiane. E poi 19 fabbricati, 14 terreni in Romagna e a Milano, un'autovettura e 29 quote societarie. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario, Extra Eco. L'olio buono è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara. Per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. Si è presentato questa mattina davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini, Tiziano Marchi, il funzionario di Agenzia delle Entrate di Cesena, accusato di concussione, ex assessore, l'ex assessore di 59 anni, il comune di Forlì. L'uomo tuttora si trova agli arresti domiciliari. Era stato arrestato a Rimini, mentre intascava una bustarella da 5.000 euro da un imprenditore cesenate per ammorbidire un controllo fiscale. L'uomo si era difeso dicendo che quei soldi non erano una bustarella, una tangente, ma si trattava di un prestito. Nei suoi confronti, tramite l'avvocatura di Stato, l'Agenzia delle Entrate, che ha già sospeso il funzionario in vista del suo licenziamento, si è costituita a parte civile attraverso il suo legale. Marchi si è detto disponibile a risarcire sia l'imprenditore che lo Stato. I giudici hanno quindi aggiornato l'udienza al prossimo 17 giugno, quando dovranno decidere se procedere col giudizio diretto oppure andare in giudizio abbreviato. Ed ora la cronaca, l'avete visto anche nei titoli. I ladri si schiantano dopo un inseguimento ingaggiato con le forze dell'ordine. La corsa che è finita a Riccione, i due sono stati poi alla fine arrestati, i particolari nel servizio. Tre feriti, un carabiniere e due poliziotti della stradale, mentre tre sono le auto distrutte, una gazzella dell'arma e due pattuglie della Polizia di Stato. Questo è il bilancio al termine di un inseguimento avvenuto lunedì sera per le strade di Riccione. Tutto avuto inizio la mattina cattolica dove è stata rubata una Fiat Idea lasciata parcheggiata. Il veicolo è stato avvistato nel pomeriggio nella zona dell'Iper di Savignano con a bordo due persone che sono riuscite a mettere a segno una serie di furti e scippi. Partita la caccia ai mani venti a cavallo tra le province di Rimini e Forlice Sena, fino a quando, nella prima serata di ieri, la Fiat è stata segnalata nei pressi del centro commerciale Le Befane Rimini. Sia le pattuglie della Polizia di Stato che le gazzelle dei carabinieri hanno iniziato a perlustrare la zona, riuscendo ad individuare intorno alle 22 l'auto sospetta al confine tra Rimini e Riccione. Nonostante l'alti malviventi hanno spinto sull'acceleratore cercando di seminare le forze dell'ordine, nella zona del Maranno è stata speronata l'auto dei carabinieri, continuando la fuga in direzione sud. Talonata da volanti, gazzelle e pattuglie della Polizia Stradale, la Fiat Idea è andata a schiantarsi in via Liguria a Riccione, non prima di aver distrutto altri due mezzi degli agenti e investito un militare dell'ardo. A bordo sono stati trovati un sardo di 53 anni e un ternano di 38, entrambi già noti alle forze dell'ordine che sono stati ammanettati e portati in questura. Mentre i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ciccarini. E ora invece parliamo di economia. Lo facciamo con un'indagine che vede l'Emilia Romagna al centro come regione locomotiva d'Europa, in particolare nel servizio curato da Alessio Bertini. L'Emilia Romagna si conferma virtuosa locomotiva d'Italia, con fatturati aziendali che crescono il doppio rispetto alla media nazionale e redditività in continua progressione. I dati provengono da una ricerca di Unicredit basata su un campione di 28.000 imprese regionali. Di molto positivi anche i dati sul commercio estero, che premiano la nostra regione, tra quelle manifatturiere con segni positivi. Più 6,1% l'export, più 4,6% l'import recito al confronto, tra il quarto trimestre 2015 sullo stesso periodo dell'anno precedente. E vengono confermati i segnali di miglioramento per il mercato del lavoro dell'Emilia Romagna, con una riduzione del tasso di disoccupazione pari all'1,2% e un incremento degli occupati nei servizi e nel settore agricolo, anche se negli ultimi mesi del 2015 spicca una riduzione di quelli nell'industria di due punti percentuali. Nella nostra regione va bene anche il sistema degli investimenti. Quelli fissi lordi, che fanno riferimento alle risorse provenienti sia dalle imprese sia dal settore pubblico, segnano un aumento medio dell'1,8% all'anno, due decimali di punti in più rispetto al resto d'Italia. L'anno prossimo si dovrebbe andare oltre, passando ad un più 2,8%, ancora superiore al livello nazionale. I settori che incidono positivamente in regione restano la manifattura, l'automotive, la meccanica e le specialità medicinali, sia per dimensioni sia per ricavi attesi, insieme con alcuni comparti dei servizi, come quelli ad imprese e famiglie. E soprattutto le imprese dell'Emilia Romagna appaiono più competitive e forti di bassi livelli di indebitamento. E parliamo ancora delle imprese emiliano-romagnole, che sono tra le più puntuali d'Italia nei pagamenti commerciali. Si posiziona al secondo posto del paese, precedute dalla Lombardia. Il 44,9% delle 400 e 8100 imprese emiliane ha infatti saldato i fornitori alla scadenza contro la media italiana del 35,1%. L'8,8% invece ha saldato le fatture con oltre il mese di ritardo, 13,8% media italiana. Se si paragonano i dati attuali con il 2010 emerge che le imprese sono più puntuali. Solo il 40,8% pagava la scadenza, preoccupano però i ritardi considerati gravi, cresciuti invece in questi anni dell'87,2%. Rispetto ad un anno fa sono diminuiti sia i pagamenti alla scadenza, meno 3,6%, sia i saldi oltre i 30 giorni di ritardo, meno 1,1%. A diffondere i dati è stato lo studio pagamenti aggiornato a fine marzo 2016, realizzato da CRIPS DMB, la società del gruppo CRIPS che ha studiato i comportamenti di pagamento delle imprese dell'Emilia Romagna. Ed ora torniamo a Rimini, addio commossa a Don Andrea Baiocchi, l'econo della curia diocesana riminesi, particolari nel servizio curato da Marcello Bartolini. Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Rimini nella chiesa di San Raffaele a Don Andrea Baiocchi, economo diocesano vicario diocesano per l'economia per 29 anni, scomparso venerdì scorso all'età di 86 anni. A celebrare l'esequio il vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, insieme al vescovo emerito Mariano De Nicolò e tanti sacerdoti della diocesi, Don Andrea Baiocchi era stato per 11 anni responsabile del servizio a nuove chiese ed economo diocesano un trentennio, in carico che aveva lasciato nel 2011 rimanendo comunque nel consiglio presbiterale diocesano. Nell'omelia il vescovo Francesco Lambiasi ha ricordato il prelato scomparso leggendo brani di interviste dello stesso Don Andrea, generoso e dallo spiccato senso pratico e operativo Don Baiocchi, nato a Rimini il 23 febbraio 1930 e ordinato sacerdoti il 28 giugno 1953 dall'amministratore apostolico Monsignor Luigi Negrini, ha avuto un ruolo importante anche nella fondazione della parrocchia riminese Don Domenico Savio e Padulli. All'epoca infatti il territorio era succursale di San Raffaele, dopo la costruzione della circonvalazione nuova è diventata parrocchia e convogliando una piccola parte di San Lorenzo a monte e una piccola parte di Spadarolo. Nel 2009 Don Andrea è stato nominato vicario episcopale per l'economia e servizio che ha svolto fino al 2014, mentre ringraziamo il Signore per il lungo e generoso ministero sacerdotale di Don Andrea, detto il vicario generale Don Maurizio Fabri, lo accompagniamo all'incontro del padre con la nostra preghiera. La situazione penitenziaria dell'Emilia Romagna ci preoccupa, la rivolta ai richiami alla guerra santa dell'Isis a Piacenza sono inquietanti, ma anche a Folli e Ferrana si sono vissuti momenti di autentica tensione. Ed è tutto evidente che non basta monitorare la situazione, ma servono urgenti e concreti interventi da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In particolare a dirlo Donato Capecce, segretario generale del SAP e sindacato della Polizia penitenziaria, sarà in visita nei carceri di Parma, Ferrara e Bologna dal 17 maggio. Forlì, grazie allo scrupolo e all'attenzione dei nostri agenti, ha aggiunto è stata sventata un'evasione, questo avviene a distanza di 4 mesi dall'evasione consumata a febbraio, quando un detenuto scappò dal carcere a Ferrara. Nel discorso un detenuto ha devastato il viso di un nostro assistente, dice capo colpendolo violentemente con una testata. Mi sembra, conclude, che ci siano tutti gli elementi per definirla una situazione regionale complessivamente destabilizzata. E allora, avete visto anche nei titoli, parliamo di turismo ma anche di alta cucina, perché almeno il circo, mercato dei sapori, in programma il 18 e il 19 giugno a Rimini, che vedrà partecipare, vedrà anche dimostrazione dal vivo di chef stellati e anche di chef, di 12 giovani chef, dicevo il circo è stato presentato ufficialmente anche a Milano. Vediamo. L'esperienza del primo anno, che cosa lasciate e che cosa troveremo in questa seconda edizione? Hai detto molto bene, è la seconda edizione perché la prima edizione era l'anno zero, che abbiamo detto questa è una prova ed è stato un successo enorme, e quindi ci ha dato però la spinta per poter continuare. La gente ha capito, i grandi secondi di cucina di tutti i più importanti ristoranti del mondo hanno detto fanno a gara per venire o per tornare, per chi è già venuto, e quindi vuol dire che l'edizione ha avuto un grande successo. Quest'anno mi aspetto tanto da Rosio Sanchez, dal suo Tacos, voglio vedere come interpreta i prodotti DOP o IGP della nostra regione, vediamo cosa ci fa mangiare. Ci sarà una... come non mai, come non mai ci saranno grandi cuochi da tutto il mondo, Messico, Stati Uniti, Peru, quindi arrivano gente che ci porta appunto la loro cultura e viene miscelata con i nostri prodotti, quindi diventeranno, severamente apprezzeranno questi prodotti, ambasciatori a loro volta nel mondo di queste materie prime. Quindi è vero che i prodotti sono fondamentali, quindi la qualità della materia prima è fondamentale, ma è anche vero che c'è buona qualità delle idee, perché l'idea è cultura, e l'idea è ciò che genera la conoscenza, che apre la coscienza e da lì il senso di responsabilità è un attimo. Bene, adesso apriamo la pagina sportiva con il nostro consueto appuntamento, l'ultimo per questa stagione dedicata al calcio, ma non solo, anche agli altri sport, un calcio al martedì a cura di Marcello Bartolini. Buonasera, un calcio al martedì dunque, la Lega Pro in apertura a un punto contro l'Aquila per continuare a cullare i sogni di salvezza diretta per il Rimini che sabato al Neri ha mostrato grinta e temperamento, peccato per le numerose occasioni fallite di un soffio e alla fine gli ospiti con i bianco-rossi in nove avrebbero potuto conquistare l'intera posta. domenica prossima ad Ancona per i bianco-rossi l'imperativo e far punti per restare a galla. E adesso la polemica sulle seconde squadre di A e Lega Pro. Sentiamo Riccardo Giandini. Milan, Inter, Juventus, Lazio e Roma nel prossimo campionato di Lega Pro. Stiamo parlando delle formazioni B sul modello spagnolo, un'innovazione richiesta da anni che presto potrebbe concretizzarsi nel prossimo o nel campionato 2017-2018. Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha rotto gli indugi. La ratifica dovrebbe arrivare domani, dal Consiglio federale. In sostanza, le squadre B saranno formate esclusivamente da giovani, italiani e stranieri, ma non extracomunitari, secondo le regole della Lega Pro. Non potrebbero essere promosse e retrocesse, anche se i punti conquistati determineranno la loro posizione in classifica. In sostanza, le squadre primavera verrebbero eliminate. Rimarrebbe quindi la Berretti come ultimo club del settore giovanile per Serie A, B e Lega Pro. Ma nostro modo di vedere si tratta di una riforma molto populista e poco concreta. Una formazione interamente di giovani giocatori non può crescere in un campionato di Lega Pro senza avere al fianco compagni esperti. La scarsa competitività della squadra potrebbe essere nociva per giocatori di valore e prospettiva. In fondo, un giovane uscito dal vivaio, se ha talento, può benissimo giocare in Serie A, in Serie B o Lega Pro da protagonista. Un 17enne come Donnarumma gioca nel Milan perché, oltre al talento individuale, sa volare tra i pali in tempi di esasperazione, dell'attacco alla palla e del leva gamba usato erroneamente sui tiri angolati. Il problema è imporre un qualcosa per ovviare una mancanza. Mancanza di tecnici preparati nei vivai, mancanza di meritocrazia nei settori giovanili perché spesso bisogna fare giocare chi ha il genitore danaroso che sostiene la squadra. Mancanza di coraggio di programmazione da parte di dirigenti delle prime squadre. Un'esesperazione della sentenza Bosman che ha distrutto i lavori dei vivai perché il problema del calcio italiano non è l'assenza della squadra B ma la Juventus che vince il torneo di Viareggio con Lirola, Castanos, Vadalà e Blanco che di italiano e di crescita nel vivai italiano non hanno proprio nulla. Il rischio è proprio questo, che le squadre B diventino delle multinazionali formate da giocatori di 20 anni presi saccheggiando i settori giovanili stranieri o, ancora peggio, le prime squadre di mercati più poveri ma spesso ricchi di talento come quelli dell'est Europa comunitaria. Sguardo al basket Krabs-Rimini che sbancano Valsesia per 62-84 staccano i pass per i play-off trascinati ancora una volta da Panzina e Chiera senza dimenticare il grande apporto dei veterani Tassinario e Fogliera-Rimini conclude quindi il campionato in settima posizione chiudendo il girone di ritorno con 13 vittorie in 15 giornate e realizzando una rimonta che tre mesi fa sembrava incredibile a dir poco adesso il primo turno dei play-off vedrà i Krabs impegnati contro i cugini di Forlì gara 1 si giocherà a Forlì domenica 1 maggio poi il derby andrà in scena al Flaminio giovedì 5 prima dell'eventuale gara 3 al Palafiera domenica 8 maggio e adesso anche il volley la pallavolo perché vediamo come si sono comportate le squadre del Romagnole nel campionato di Serie B nel consueto punto firmato dal collega Enrico Spada Dolciari e Rovelli Morciano 10 una promozione o salvezza che dir si voglia dal peso specifico altissimo a un certo punto della stagione sembrava durissima quasi impossibile poi un paio di innesti la crescita generale di tutto il gruppo la capacità di superare anche le difficoltà più avute sotto forma di infortuni la ciliegina sulla torta e la vittoria sul campo della capolista Castelfranco di sotto impresa riservata solo a pochi eletti tutto bellissimo Volley Club Cesena 10 la salvezza ottenuta con due giornate di anticipo grazie alla vittoria al tie break con Cecina con una squadra composta per la maggior parte di giovani prodotti del vivaio locale vale triplo un mese fa era in piena zona retrocessione poi al momento giusto ha cambiato marcia la squadra di Andrea Simoncelli ancora una volta capace con il lavoro di creare un piccolo miracolo Stella Rimini 9 conquista con due giornate di anticipo una salvezza che non è mai stata realmente in bilico compiendo una bella impresa perché la squadra come sempre è fatta con risorse limitate e cercando giocatrici del posto una stagione di alti e bassi ma nei momenti decisivi si è sempre fatta trovare pronta Claimo la 9 seconda vittoria consecutiva che ben si intreccia con i risultati che arrivano nei due scontri diretti di giornata già espugnare Perugia è un'impresa se poi ci si mettono anche le rivali a favorire le Imolesi il miracolo si può compiere in casa della capolista Bastia sabato prossimo è dura ma potrebbero bastare tre punti in casa con Civitanova l'ultima giornata per chiudere i conti Battistelli San Giovanni Marignano 8 battere Pescara penultima in classifica rientra nei compiti istituzionali della capolista ma a tre giornate dalla fine quando si arriva da un periodo non semplice contro una squadra che ha disperato bisogno di punti in classifica nulla è scontato la squadra di Solforati vince e torna solo al comando della graduatoria in attesa delle ultime due giornate che si preannunciano complicate il baseball in chiusura il rimini completa lo sweep nella derby imponendosi in gara 3 per 8 a 0 contro la Tia San Marino priva di diversi giocatori come imperiali Santora Ermini a sorpresa del lanciatore americano Germano tenuto a riposo precauzionale per un fastidio e il gomito il manager sanmarinese Bindi schiera il mancino italo venezuelano Fracchiolla da partente i pirati mettono subito una bella ipoteca sul match al primo assalto Desimoni e Zappone si guadagnano la base la baseball poi entrambi vengono spinti appunto dal doppio di Flores sull'azione il corridore riminese giunge in terza sull'incertezza della difesa poi mai ora viene colpito il gran doppio al centro di Ramos firma la terza segnatura e porrà fine alla disastrosa apparizione di Franchiolla la partita scorre via liscia con il partente nero arancio Hernandez che si dimostra solido lanciatore 6 riprese di qualità conquistando così il suo primo successo in campionato la ground ball di Zappone permette al corridore in terza di arrivare a punto poi il singolo di Flores decreta la netta affermazione dei pirati per 8 a 0 io mi fermo qua non c'è altro l'appuntamento con un calcio al martedì a tra sette giorni arrivederci ed infine parliamo di un'allerta diramata alla protezione civile dell'Emilia Romagna per temporali la fase di attenzione è prevista a partire dalle 8 di domani alle 14 di giovedì riguarda tutti i settori della regione ed esclusione delle zone più a destra in pianura in appennino e dalla costa adriatica all'approssimarsi di una perturbazione atlantica seguita da intensi flussi sudoccidentali umidi e instabili come spiega l'agenzia regionale che determinerà un peggioramento del tempo dalle prime ore del mattino di domani si prevedono precipitazioni diffuse di intensità debole e moderata anche a locale carattere di rovescio in estensione delle lievi verso la pianura emiliana dopo una possibile pausa nel pomeriggio dalla sera è prevista invece una ripresa delle precipitazioni con la formazione di locali temporali più probabili sui lievi nel settore centro-occidentale bene questa era l'ultima notizia vi ricordo dopo di noi subito dopo la sigla la nostra consigliata rubrica del martedì dedicata ai consumatori la borsa della spesa e poi a partire dalle ore 20 l'appuntamento con l'ambiente con una nuova puntata di Green Reports vi ricordo in ultimo che i nostri contenuti multimediali possono essere consultati anche online andando all'indirizzo www.telerimini.it dove è possibile seguire in diretta streaming anche l'edizione del nostro telegiornale bene con questo è davvero tutto grazie come sempre per la cortesa attenzione l'appuntamento domani questa settimana sui banchi del mercato coperto di Rimini potete trovare nel reparto pescheria prezzi medi registrati salmone fresco 15 euro e 50 centesimi al chilo sogliole nostrane 22 euro al chilo canocchie da 10 a 12 euro al chilo seppia 14 euro al chilo lumachine nostrane 5 euro e 50 centesimi al chilo vongole di Rimini 3 euro al chilo e nel reparto e nel reparto ottofrutta prezzi medi registrati radicchio 50 centesimi al mazzo agretti oliscari 50 centesimi al mazzo fava 3 euro al chilo fragole 2 euro al cestino aspare ginostrani 4 euro al mazzo piselli 3 euro e 50 centesimi al chilo 5 euro al chilo